si stiamo vaccinando stiamo vaccinando 2.500 3.000 persone al giorno nelle farmacie lombarde il vaccino naturalmente quello del covid il nuovo vaccino bivalente l'omnicon 1 e nei prossimi giorni l'omnicon 5 quindi venite in farmacia vaccinarsi è troppo importante perché quello che ci protegge da questa tremenda pandemia ce la stiamo facendo quindi siamo ormai addirittura di arriva per sconfiggerla e poi la vaccinazione anti influenzale fra un mese si parte per le persone diciamo anziane o per tutte comunque le persone che con ricetta medica si presenteranno in farmacia quest'anno la farmacia potrà fare le vaccinazioni anche in regime di sistema sanitario nazionale così come i medici di medicina generale anche questa è una vaccinazione importante quindi vi aspettiamo